Sì, il tema del pagamento del canone RAI, ovvero della tassa d'imposta sull'apparecchio radiotelevisivo, è un tema arcinotto a quest'Aula, in quanto l'abbiamo più volte affrontato, più volte dibattuto e anche nel corso delle varie legislature e dei numerosi governi di questa Seconda Repubblica, è stato più volte affrontato, ma tutt'oggi rimasto irrisolto. È uno Stato singolare il nostro, piuttosto curioso, in cui quella che è una tassa viene definita un abbonamento, ma che poi ha tutti gli effetti di una tassa, nel momento in cui coloro che decidono, per esempio, liberamente, interpretando il senso di abbonamento, di non pagarlo, vengono poi perseguiti. E qui si apre tutta una serie di comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori da parte della RAI, che è concessionaria del Servizio Pubblico di Stato e dello Stato stesso, che sarebbe il caso di affrontare con maggiore dovizia di dettagli e di sicuro non all'interno di una mozione. Con questa mozione, invece, noi vogliamo porre all'attenzione del Parlamento quello che oggi è extraparlamentare, ovvero un dibattito nel merito del finanziamento del Servizio Pubblico, prima cosa. E seconda cosa, quale sarà lo strumento di finanziamento del Servizio Pubblico del futuro e soprattutto chi questo Servizio Pubblico svolgerà. Perché ci sono vari livelli di intervento e vari livelli su cui porre l'attenzione. Prima di tutto, nel terzo millennio, ha ancora senso parlare di una concessionaria, quindi di un monopolio del Servizio Pubblico? Perché oggi così è. a maggior ragione nel momento in cui lo Stato taglia tutti i sussidi, le risorse, gli aiuti all'editoria, l'anno prossimo c'era una previsione della chiusura di ben 318 testate tra quotidiani e periodici proprio a causa del drastico taglio, di fatto l'azzeramento dei contributi all'editoria cooperativa. Di fronte a un continuo taglio dei contributi per l'emittenza locale. L'anno prossimo c'è una previsione di finanziamento che è addirittura di un ottavo rispetto a quella di sei anni fa per quanto riguarda l'emittenza locale. Di fronte a una contrazione delle risorse frequenziali che alla stessa emittenza locale viene concessa a favore invece degli operatori delle telecomunicazioni. Di fronte quindi a un quadro in cui c'è un ristringimento della contribuzione, dell'aiuto, del supporto dello Stato all'editoria a 360 gradi, quindi al pluralismo e al mantenimento di quella che è una tipica ricchezza del nostro Paese, di fronte a tutto ciò siamo al rifinanziamento lennesimo attraverso uno strumento sul rettizio, perché abbiamo visto che l'abbonamento non è altro che un diverso modo di chiamare un finanziamento, un aiuto di Stato a un concessionario pubblico di servizio pubblico, radio televisiva. Di fronte a tutto ciò che senso ha avere un monopolista? Che senso ha dare tutte le risorse oggi disponibili per il servizio pubblico e l'informazione, ovvero 1,7 miliardi di euro, a un solo soggetto? Soggetto che poi noi sappiamo benissimo, come dire, non interpreta nel migliore modo questo ruolo di concessionario, anzi sono tante, tantissime le obiezioni da parte del mondo sociale e non solo quello culturale, su come la RAI interpreta e adempie al contratto di servizio. Noi sappiamo benissimo che purtroppo sono moltissime le violazioni del contratto di servizio, moltissime le clause ancora oggi inespresse, seppur costantemente ripetute, direi reiterate, visto poi i risultati, all'interno del contratto di servizio stesso. Oggi siamo a una svolta epocale, nodale, perché come ben tutti sappiamo la legge Gasparri determina la conclusione di questo primo periodo, lunghissimo periodo, di concessione per quanto riguarda il servizio pubblico radio televisivo. Quindi in questa prossimità la domanda che noi facciamo al governo è se ha ancora senso avere un monopolista in un'era digitale del servizio pubblico radio televisivo, se ha senso questo monopolista sarà ancora la RAI, qual è lo strumento che il governo intende utilizzare per far sì che la RAI, se sarà ancora la RAI, adempia ai suoi compiti di concessionario, soprattutto rispetti lo spirito stesso di quello che è la concessione di servizio pubblico. Questa sarà ancora la RAI, quale forma di governo di questa azienda è nella testa di chi oggi ci governa in modo tale da garantire il reale pluralismo e il reale svolgimento della sua missione di servizio pubblico? Sono tanti i quesiti che in questo momento noi abbiamo, che il Paese pone a chi è chiamato a ridisegnare l'intero sistema, in quanto noi siamo convinti per esempio che si debba fare qualcosa di più e di diverso da quello che ci siamo fino ad oggi abituati a fare. I governi di centrodestra e i governi di centrosinistra, ovvero contrattare le forme di servizio pubblico con chi ne è monopolista, dimenticando che sulla scena dell'informazione, dell'editoria, della cultura italiana ci sono tantissimi soggetti altrettanto meritevoli di avere un aiuto, di avere una sovvenzione di avere un supporto, di avere delle leggi favorevoli, di avere un ambiente in cui sviluppare cultura, informazione, arte insomma tutto quello che fa parte del servizio pubblico e in un ultimo il pluralismo. Purtroppo fino ad oggi tutto ciò non è stato, anzi peggio fino ad oggi, soprattutto in questi ultimi periodi questo spazio si è sempre più contratto e sempre più diminuito fino alle previsioni che scompariranno se non ad eccezione appunto di ciò che sono i proventi del cosiddetto abbonamento, della cosiddetta tassa di imposta sull'apparecchio radio televisivo che è anche qui altra questione da affrontare e quindi altro contributo che noi chiediamo, di chiarezza ovviamente, che chiediamo al governo che ne sarà di questa imposta, come la immaginate e quali saranno le modalità di riscossione. Sino ad oggi si è trattato di un versamento volontario, in futuro sarà nella bolletta energetica, sarà in un'imposizione generale con un aumento di una qualsiasi imposta. A questa domanda, ovviamente anche per una questione di chiarezza, visto che siamo a pochissimi giorni dalla scadenza dell'abbonamento del 2014 e quindi del rinnovo, io credo che sia per un rapporto franco con i cittadini, sia anche per una questione di semplice programmazione, non solo da parte del governo ma anche dall'azienda, io credo che il governo, anche qui la maggioranza, anche qui debba dare delle certezze, debba dare delle risposte. Allora, i temi sono tanti e noi ne affrontiamo in parte in questa mozione che evidentemente è articolata ma non può coprire lo scibile in un momento appunto di grandissima trasformazione dal punto di vista di quello che è tutto il panorama dell'informazione del Paese. E allora qui stiamo a chiedervi come intendete agire e questa mozione indica una strada da percorrere ovviamente in tema di chiarezza del rapporto tra il cittadino e lo Stato, tra il cittadino contribuente e lo Stato esattore in questo caso e soprattutto è un'occasione, l'ulteriore occasione per capire qual è l'orientamento di questo governo in una materia fondamentale nevralgica per quanto riguarda la democrazia del Paese.